Qui in alto a destra c'è un'isola e oggi ci atterreremo per un'ora in ranked no build, come tra l'altro vi ho promesso nel video di ieri. Il problema è che nel video di ieri vi avevo detto che in no build ero ancora senza rank e invece sono oro 2, neanche me lo ricordavo di aver giocato le ranked no build in questa stagione, vabbè. Lo sapete, non sto ancora al 100%, anche per quello questa atterro per un'ora la sto facendo in no build. Me la sento però di fare questo atterro per un'ora e quindi oggi siamo qui per farla, anche perché è un po' che non facciamo degli atterro per un'ora. Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite e mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto attaccato anche perché ogni 2 settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare gli atterro per un'ora e iscrivetevi nei commenti dove atterrare nel prossimo episodio. Questa volta, a differenza delle altre volte, andremo a fare direttamente con il cronometro che è partito adesso e quindi quando scatterà l'ora non potrò più startare partite. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ok ragazzi, allora, destinazione, appunto, isola mega iper segreta della nuova collaborazione con Avatar. Ho già fatto un video al riguardo che è uscito ieri. Infatti ragazzi, ieri è uscita una sorta di GG News dove abbiamo approfondito la collaborazione con Avatar e abbiamo approfondito anche questa sparizione di Nida, anche se non è una vera e propria sparizione perché c'è ancora in game. Però, ripeto, andate a vedere il video ieri per saperne di più. Oggi dovrò concentrare tutta la mia mente, tutto il mio corpo su questo atterro per un'ora perché se non me la gioco concentrato farò ancora più schifo del solito. E poi comunque, nel dubbio, su quell'isola c'è sempre almeno una cesta leggendaria da quello che ho visto. Quindi in realtà il loot non dovrebbe essere malvagissimo. Tra le altre cose, non ci avevo pensato prima, ve lo giuro, ma effettivamente in build sarebbe potuto essere ancora più complicato perché non è che c'avevo tutti sti posti per lootare le build. Regà, ma c'è qualcuno che ci sta avvenendo? Allora, diciamo che le paleoliche sono veramente sempre molto optate come atterraggio anche e soprattutto in ranked. Però mo' nell'isola ghiacciata sinceramente speravo di no. Ok, la tempesta in realtà poteva anche essere molto be... No, no, regà, c'è qualcuno, non ce posso credere. C'è davvero qualcuno che viene qui, ragazzi. Cioè, io ci sto a venire per la challenge, ma ve lo giuro, in una partita normale non ci verrei mai. Ma non ci verrei mai, ma ve lo giuro. Ma che senso ha venire qui? Io, vabbè. Cioè, per carità, una volta, due volte, così, tanto per, ma... Eh, bro, beh, nel senso, no? Sei proprio venuto qui per morire. Ma poi soprattutto in ranked, cioè io capisco se ci viene tanta gente in pubblica. Perché la gente, appunto, vuole vedere, è curiosa, tutto quello che ve pare. Ma così in ranked, boh... Comunque, regà, a me il gioco da questa stagione dà delle sensazioni strane, non lo so. Mi sembra sempre andare a scatti, non lo so perché. Ha dei micro scattini, eh, che non sono dovuti né dal ping, quindi né dalla connessione, né tantomeno dai lad in game. Cioè, proprio come se il gioco scattasse, punto. Allora, abbiamo trovato il pump leggendario, mo, qui nella... nella cesta leggendaria sopra. Abbiamo trovato anche qualcos'altro, me sa, eh, i pucatili, sì. Facciamo così, va? E adesso usiamo la jump. Madonna, che brutto liscio, raga, che ho fatto. Meno male che ha preso le ruote. Raga, se non avesse preso le ruote che lo rimbalzava via, mi avrebbe ucciso lui, eh. Se non avesse preso le ruote che lo rimbalzavano via, mi avrebbe ucciso lui. Perché mi stava pushando e mi aveva laserato molto di più di quanto non avessi già fatto io. Per una volta, ragazzi, le ruote del bunkatile non hanno... non hanno fatto danni, ma mi hanno aiutato davvero. Incredibile. Di solito gliene dico di ogni, perché mi cimpicco e basta. Raga, ho soldato l'NPC. Ho sentito anche degli spari verso... Ah, no, verso di qua, però. Lo sapete che... Ma io quasi quasi faccio gli affari miei e continuo a lutare, ragazzi. No, però questi stanno veramente tanto vicini, eh. Si stanno veramente tanto, tanto vicini. Fermi tutti. Eh, sì. Se solo... Se solo magari la mia mira decidesse di funzionare... Magari... Bro? Si è incastrato? Ah, il bro era proprio one shot. Si era incastrato, regà. Non ne... Non ne usciva più. Non ne usciva più, ragazzi. Non ne usciva... Non ne usciva, va bene. Fa sorridere, ma anche riflettere questa cosa. Ah, quindi stanno utilizzando il potere mitico di Korra, eh. Lo stanno utilizzando, attenzione. Io, raga, per ora non me lo sento di portarmelo in ranked. Ok, regà? C'è gente qua? Stanno a sparare del brutto? Ok. Mamma mia, quanto faccio schifo. Mamma mia, quanto faccio schifo, ragazzi. Però ma questo non lo so se stava a scappare. Oh mio Dio. Oh, oh... Sì, vabbè. Lui non fa tanto schifo. E tra l'altro mi stava pushando anche un altro da dietro. Oh mio Dio. NPC, fai qualcosa. Fai qualcosa, NPC. Puscialo. Digli qualcosa. Mandalo a quel paese. Cioè, non... Non lo so. Non lo so quello che potresti fare, ma... Regà, c'è questi veramente una mira allucinante. GG per voi. Anzi, per lui. Perché poi con le malaserate è stato uno solo. Vabbè, ho dimezzato le mie cure, le mie impulsi così, in mezzo secondo. E a sapere che lui mi troppava subito le cure a bomba, neanche sprecavo tutto quanto. Vabbè. No, raga, passi. Macchina. Prende la macchina e se ne va. Eh, lo so che sei dentro, bro. Lo so che sei dentro, bro. Ragazzi, sto trucchetto ogni tanto... Ne riparlo sempre. È strautile. Cioè, praticamente, quando voi avete il dubbio che ci sia qualcuno o meno dentro una macchina, ma basta che la pingate. Per esempio, hai visto prima il ping non ha pingato la macchina, ma ha pingato un punto. Ecco, adesso ha pingato la macchina. Perché? Perché non c'è nessuno. Quindi, se non c'è nessuno, ve la pinga così. Se c'è qualcuno dentro, fa come ha fatto prima, che quindi ha pingato il punto esatto. Io lo faccio sempre, raga, quando c'ho il dubbio della macchina, se c'è qualcuno dentro o meno. Oh, 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 oh. Il bro, quindi, non si è arreso. Sta dietro quella roccia, teoricamente, sì. Grazie, bro. Me li tengo un attimo lì indietro. Quindi il bro non è messo malissimo, però è scappato immediatamente. Ok. Ma, allora, non è che mi convenga troppo pusharlo in questo frangente, eh? Perché o spreco le impulsi per pusharlo, ma mi sembra un po' troppo aggressiva come decisione. Ecco, ci prendiamo la taglia. Probabilmente è proprio lui, tra l'altro, quindi è anche comodo. Ah, raga, il treno sta anche passando qui, che se lo stanno pure aprendo. Molto male. Quindi, c'è qualcuno? Ok. Ah, raga, l'abbiamo devastato a questo. Guarda, me lo ruba. Ma un altro? A me? Sì, 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 raga, un altro. Siamo tipo in quattro qui. Eh, raga, non c'ho più buntatili. Devo decidere chi pushare. Ora, madonna mia. Penso che c'è l'assalto in mano. La facciamoci, va? Ok. Oh, madonna! Ah, con questo leggendario. Madonna! Ma non c'era neanche il laser come modifica. Mi ha distrutto, ragazzi. Ma penso che con un colpo mi abbia fatto più di 150, raga, eh. Ma proprio tranquillamente. Cioè, ma proprio devastato. Va bene. Come è andata? Quattro kill. Ah, quattordicesimi, geramo. Quindi dovremmo aver fatto un bel po' di percentuale. Infatti oro 3. Ok. 20%. Abbiamo ucciso, mi sa, solo gente di oro, sì. Però va bene, va bene. Onesto, andiamo. Ok, ragazzi. Stavolta l'isola ce l'abbiamo molto più vicina rispetto a prima, eh. Quindi dobbiamo scendere immediatamente. Sperano averci tutta quella gente intorno come prima. Perché, vabbè, prima siamo stati fortunati perché il primo l'abbiamo ucciso e l'abbiamo anticipato. Il secondo l'abbiamo beccato da... Alle spalle. Mi fa ridere questa cosa e l'ho ucciso grazie alle ruote del Bunkatile. Va bene. Dunque, raga, anche se hanno nerfato il pump spammone, che poi tra l'altro mi sono andato a leggere le statistiche come l'hanno depotenziato e dovrebbero aver depotenziato il danno da lontano. Cioè, non hanno proprio depotenziato il danno da vicino e lo spam che riesce a fare. Quindi comunque, a mio avviso, almeno in no build rimane la scelta migliore. In build se ne può parlare, sicuramente. Per il mio stile di gioco rimane comunque il preferito, però poi ovviamente dipende anche da uno come gioca. Però, raga, se quello leggendario di spammone ti fa praticamente un danno superiore a quello degli altri pump che dovrebbero essere un po' più forti a livello di danno e meno spammoni, diventa un po' problematica. Anche se questo del Cerbero funziona in maniera strana perché spammama ma c'ha pochi colpi. Vabbè, sono particolari i pump in questa stagione. È un bel Nemesi! Grazie, Fortnite! Grazie mille! Oddio! A queste fanno subito a cambiare idea. Madonna mia! Ma come hai equipaggiato sto Nemesi? Come me l'hanno dato? Ma soprattutto le mie mani. Mamma, come me le hai fatte le mani? Ha sbagliato qualcosa? Cioè, vabbè, tutti i Nemesi. Tutti i Nemesi il gioco mi sta dando. No, bro, cioè tu forse non hai capito. Adesso ti inseguo finché non ti uccido. Cioè, tu forse non hai ben chiara la situazione. Cioè, tu hai deciso di atterrare qui nonostante ci fossi già io. Ma io adesso ti seguo finché... No, raga, vuole entrare nel bagno chimico. No, non vuole entrare nel bagno chimico. Probabilmente non sa come funziona. Oh, ma non mi si muove... Regà, no, me lo ruba. Non me l'ha rubato. Cioè, ce n'ho un altro dietro, eh. C'ho un altro player dietro, raga. Cioè, raga, questi li dovevo killare tutti per forza. Cioè, proprio non avevo altra scelta. Ma dovrebbe esserci qualcun altro, ragazzi, eh. Io devo stare attento perché sto a fare tanto il figo, ma non mi sono né shieldato né niente. Ah, purtroppo non mi conviene più andare verso l'isola. Anche se, però, come vedete, c'è qualcuno. Quindi potrei banalmente aspettarlo e spammargli tutto quello che ho appena prende la jump. Perché tanto, eccolo lì, la sta prendendo. Sta prendendo la jump. Allora, un paio di bacche me le faccio, un altro paio... Ah, ma poi, tra l'altro, c'è un altro jump lì. Ok. Eh, vabbè. Madonna, raga! Va bene, va bene. Va benissimo. Ah, ma si è messo anche male, tra l'altro. Cioè, si è messo anche malissimo, si è messo. Raga, ma come mi ha fatto la visuale quando... Eh, ma l'avete vista, la visuale? Cioè, tipo... Vabbè, no, no... Ah, questo leggendario l'ha trovato, non lo so. La visuale ha fatto cose strane quando mi ha iniziato a dittare. Ma... Mmm, va bene. Non commenterò ulteriormente l'accaduto. Mamma mia, comunque, ragazzi, tanto faccio schifo con gli assalti di questa stagione. Niente, raga, nessuno shield di alcun tipo. Se non, appunto, barilotti. Nessun pump migliore di questo bianco. In pratica, uno schifo. Uno schifo. No, raga, proprio una macchina sta arrivando. Un'altra ancora. Fermi, fermi, fermi. Due NPC. Ok. Senti, quello l'abbiamo spaccato, raga. Senti, stiamo difendendo il nostro bunker. Che poi tanto, raga, posso pure prendere le armi, ma se poi non le posso modificare come voglio io, potrebbe essere tutto inutile. Ecco i passi. Oh, raga, spazzate un po'. Se facessi... Ok. Nel dubbio, per adesso, che vi devo dire? Almeno, per ora, mi posso modificare le armi come voglio. Ok. Allora, le armi ce le siamo modificate come vogliamo. Le cure, direi di continuare così, magari... Uh, l'oro. Non ho alludato l'oro, effettivamente. Vabbè. Andiamo... Proviamo? Proviamo ad uscire. Oh, qua ho bloccato bene, comunque. Madonna mia. Come ho bloccato, signori. Cioè, è diventato un vero bunker qua era diventato, eh? Ok. Siamo andati via tutti. Strano, mi aspettavo qualcuno qua fuori. Allora, se mi dispiace è che non laserati due, ma non mi son portato a casa nessuna kill di quelli che stavano pushando il bunker. Però, se devo dire la verità, ragazzi, va benissimo così. Tanto io puntavo a lutare e a modificarmi le armi. Comunque, nel dubbio, siamo già in undici, raga. Madonna mia. C'è qualcuno che ha tutti i medaglioni, praticamente. Oh, hanno sfidato anche Zeus. Strano. Ormai non lo vedo sfidare più a nessuno. Ok, raga. C'è uno qua che, tra l'altro, mi ha anche visto e c'è anche un bel cecchino. What? Sul serio? Ah, bene, c'è anche le ali. Mi fa molto piacere questa cosa. Oddio, Godo, se sta fightando contro qualcuno. Ma non pensavo, raga, mi vedesse. E poi, raga, mi ha tirato pure quella seconda hit. Dio mio. Allora, vorrei prendere il rift per scappare ancora di più. Ma sopra l'isola c'è quello che ha tutti i medaglioni. Quindi io credo che mi laseri in mezzo secondo. Quindi direi che aspettiamo un attimo in questi secondi, vediamo dove va la tempesta e ci muoviamo di conseguenza. Ok, allora, mi sto muovendo e di là stanno fightando un botto. Mamma mia, raga, stanno cercando tutti il push pesante, eh. Ok, raga. No. Che brutta hit che ho tirato. Si era praticamente... Si era praticamente fermato. Mamma mia, comunque con questo assalto. Ma con gli assalti in generale in questa stagione io non ci piglio proprio. Ma si può sapere chi è che mi sta sparando dall'altra parte del mondo? Eh, raga, questo mi ha... mi ha puntato, eh. Ok, quello che mi stava pure a sparare da lontanissimo. Questo qua ha preso... Stava venendo cattivissimo la... Col deltaplano. Oddio mio. Che c'ha le alimo pure questo? Ovviamente penso proprio di sì. Madonna. Sì, sì, si sta pusha troppo velocemente, ma io... Ma che c'avete al posto del cecchino? Una calamita? Ah, c'ha... E giustamente c'ha tutti i cosi, c'ha... Come gli scappo mo' a questo che c'ha tutti i medaglioni? Come gli posso scappà a questo che c'ha tutti i medaglioni che fa sti mega salti del Zeus, sti dash del Cerbero? Sì. Oh, non mi gioca più la cosa. Vabbè. Eh, vabbè. Oddio mio, ragazzi. Vabbè, come ti punta se ti mette già male e ti punta quello che c'è ai poteri di Zeus, non scappi più, praticamente. Non scappi veramente più. Va bene, va bene, va bene. Comunque è andata molto bene, anche se non erano i quinti e abbiamo fatto un bel po' di kill. Almeno 4-5 dovremmo averle fatte. 4, ok, sempre 4. Beh, mica male, insomma. Mica male, un altro 50% ci siamo portati a casa. Via con la seconda. La terza, la terza. Ok, ragazzi, altro taglio del bus, invece, è abbastanza lontano dall'isola di Avatar. Però, come abbiamo iniziato il primo game, ciò non vuol dire che non ci venga nessuno. Anzi, madonna mia, ragazzi, c'è uno qua davanti a me che mi ha anticipato proprio di brutto. Ma come fa a stagiarli? E che mi invento io mo'? Scusate, diventa un po' complicata la situazione. O sbaglio? Allora, devo sperare che lui vada subito su quella leggendaria, Godo. Lui tanto adesso troverà tipo il cecco e mi one-shotterà di brutto. Ok, bro. Ci sono caduti i colpi, però non c'ha tanti colpi, ragazzi. Che sta già sparando a qualcun altro. Madonna mia, ragazzi. Che laserata che abbiamo tirato. Ah, ma questo non l'aveva proprio hittato. Ah, ma non l'aveva proprio hittato, raga. Io pensavo l'avesse... Non dico laserato, ma pensavo gli avesse fatto un bel po' di danno. Cioè, sono andato proprio tranquillo. Invece non l'aveva proprio hittato. Vabbè, sono stato proprio un pollo incredibile. Ero uscito da una situazione difficile. Potevo stare tranquillo, non pushare subito questo. Finalmente ero uscito a fare una laserata come si deve con un assalto. Ho rovinato tutto subito. Let's go. Andiamo con la quarta. Comunque abbiamo fatto un po' di punteggio perché abbiamo ucciso una platino. Ed essendo ancora in oro, è una buona cosa. Vabbè, ragazzi, che dire. Questo forse è il taglio più lontano proprio in assoluto per arrivare... Ragazzi, metterò tutta la partita. La partita sarà finita, la gente avrà fatto 600 kill. Io nel frattempo starò ancora lì con l'ombrellino a provare a arrivare lì sola, vabbè. Eh, stavolta, raga, invece la tempesta non è stata troppo clemente con noi, eh. Perché tocca sbrigarci. Cioè, comunque, raga, ma nel senso, ma sul serio fai? Cioè, il taglio era dall'altra parte del mondo. Non dall'altra parte della mappa. Io sono sceso pure male a sta botta. Madonna santa. Ok, però abbiamo trovato subito un Nemesis, ma tanto abbiamo visto che... Ecco, appunto. Raga, ma sul serio? Ma sul serio? Così schifo? Così schifo? Così schifo? Io faccio così schifo? È incredibile. È incredibile e non riesco a prenderlo mezza volta. Un caricatore intero, due colpi. Un caricatore intero sono 30 colpi, eh. Madre mia, ragazzi, madre mia, madre mia. Non abbiamo... Ah, sì, abbiamo perso il 500, però siamo stati chielati in uno da un Platino addirittura. Vabbè. Comunque, io sono il primo che va nei luoghi per camperare, per trovare loot strano, fammi le partite particolari, eccetera. Ma se io giocassi per conto mio qui sull'isola con un taglio del genere, non ci verrei solo per il tempo perso ad atterrare. Cioè io, raga, ci ho messo veramente un minuto e trenta quasi per atterrare. Una noia mortale infinita. Con l'ansia di stare ad atterrare bene, tra l'altro. Quindi o questo lo fa per passione, atterro nei luoghi strani challenge, oppure non ho veramente la più valida idea. Altra partita, altra corsa, altra planata lunga, chilometri, per raggiungere l'isola di Avatar. Lo sto odiando solo per questo motivo, eh. Non per il loot. In realtà neanche per la posizione così esterna. Cioè la posizione così esterna la sto odiando unicamente perché ci vuole tanto a raggiungerla. Perché se no, per il resto, lo sapete, non ho problemi con i punti esterni della mappa. Però raga, veramente metterci tutto sto tempo è un problema. No, raga, non ci credo. Ci sono almeno due player che stanno arrivando. Io non ho parole. Non ho parole. Due player. Cioè la lobby nel frattempo ha già perso più di un quarto dei player. La lobby ha già perso più di un quarto dei player. E qua stiamo ancora cercando di atterrare. Te prego, basta Nemesis. Cioè, basta. Oh, per favore, guarda, veramente. Grazie. Preferisco il pump, anche se da lontano non ci posso sparare. Basta Nemesis perché non gliela posso più fare. Ecco. Vabbè. Uno c'ho dovata per forza. Ah, io mo questo non ho capito bene dove sia andato. Tra l'altro il terzo che stava atterrando sempre qui mi sa che ha cambiato idea. Tipo all'ultimo perché poi non l'ho più intravisto. Mi faccio almeno la boccia prima di scendere. Però raga, questo non l'ho veramente più visto, eh. E non ha ripreso la jump perché se avesse preso la jump me l'avrebbe segnato. Punque non ho capito. Che armo ho trovato, Epica? La mitraglietta? No, ok, l'assalto questo qui. Beh, io non sto messo per niente male. Il fatto però è che mo dovrei capire questo qui dove è andato. Anche se potrebbe essere pericoloso aspettare qui. Quindi di conseguenza io penso che prenderò direttamente la jump. Questo farò finta di non averlo mai visto a te. Ah no, no, aspetta, 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 aspetta. Eh beh, eh beh. Allora, anche se è bianco mi prendo questo. Cioè, ma quella cesta è lì, no? Ma quando chi riuscirà mai a lutarla? Nessuno. E vedete? Quella non la dovrei avere aperta io, eh. Quindi questo qua effettivamente è atterrato qui e non ha ripreso la jump. Quindi sta qua sul... Eccolo, aspettate, va? Aspettate. Ah, bella sta palla di ghiaccio come... No, c'ha sto mirino. No, c'ha sto mirino. Oh mio Dio. È il diavolo, è l'inferno questo mirino. Io già faccio schifo con gli assalti. Me li date pure con questi mirini e fatta, eh? Ah, proviamo un po' a fare tipo la combo delle jump. Prendo questa, prendo quest'altra e via. Certo, lì mi sarebbe piaciuto lootare anche se vedo già lootato. Vabbè, però ripeto, ragazzi, qui è normale, eh. Qua... Qua ci vengono sempre tantissime persone. E infatti, ripeto, il problema qui del posto non è tanto il loot o sta roba qui. Ci sono anche le jump per muoversi, ma è il tempo perso per atterrare, raga. Io non ce lo perderai mai tutto sto tempo per atterrare. Ok, i bordi della mappa sono sempre esagerato. No, raga. Ah, vabbè, ok, sono gli scagnozzi. Sono gli scagnozzi. Pensavo, dato che anche qui ci viene sempre qualcuno, pensavo fossero già venuti qui ad uccidere i cattivoni qua. Gli scagnozzoni. È arrivata la tempesta, siamo lontanissimi, lo so, ma io ho dieci bende e non ho paura di utilizzarle. L'ho trovato pure le ali, ragazzi, che per ora me le tengo per tornare in fretta in safe, quindi va benissimo. E niente, raga, sono appena arrivato in safe e sta già a partire la prossima. Mi faccio il medikit con calma e poi vado con l'impulso. Alla fine ho preso l'impulso al posto delle ali. Il problema è che, appunto, ne ho trovate solo due e una l'avevo già usata. Vabbè. Oggi, ragazzi, anzi, che dico oggi? Sta partita, ragazzi, la tempesta è sempre più lontana. Incredibile. Cioè, non ho smesso di correre. Cioè, fortunatamente ho trovato un buon loot, ho trovato un buon tutto, però per il resto, cioè, sto solo a correre. Eh, vi devo dire la verità, non mi dispiacerebbe andare verso il bunker e modificare armi, però oggi ho visto due o tre player. Raga? Non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere, non sono riuscito a fare entrare l'headshot. Incredibile. Ok, quello... Madonna mia, che fortuna, ragazzi. È rientrato già? Ma? Come ho fatto a non vederlo fuori, raga? Cioè, come non era rientrato? Cioè, in che senso? Cioè, non ho capito. Allora, io lì non ci rientro. Però faccio così, così, e me ne vado, ragazzi. Anche perché tanto mo qua, raga, sta per arrivare a chiunque. Tanto questo ho visto che l'hanno modificato, c'è il mirino che piace a me, questo non è modificato come piace a me, ma va bene lo stesso. Sta arrivare al medaglione, infatti, da di là. Quello volevo evitare. Sì, 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 si sta arrivando qui il medaglione. Perfetto. Ho fatto bene. Mamma mia, raga, che fortuna che dopo la serata è uscito quello dal bunker e si sono pushati tra di loro, se no ero già morto, eh. No, 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 non deve finire come prima. Eh, raga, è quello con i medaglioni. Ma come l'ho visto camminare, raga? Ah, vabbè. Allora, sparano anche dietro, quindi in realtà devo stare molto attento. Lui secondo me sta andando verso l'isola per prendere un rift e pusharmi meglio. Va bene, io sono pronto a scappare. Uso la boccia più le impulsi. Ragazzi, comunque, nel frattempo è ufficialmente l'ultimo game perché abbiamo superato l'ora, quindi non ne posso startare più altri. Quindi vediamo se almeno l'ultimo riusciamo a portarselo a casa, dai. Oh, raga, io quasi quasi mi prendo una mitraglietta. Mi tengo la mitraglietta, mi tengo. Da lontano tanto sparo solo col cieco. Se si avvicinano spammo con pump e mitraglietta. Più che altro è che quell'assalto c'ha anche il mirino che non mi piace, eh. Attenzione, questo è quello che mi stava tenendo anche sotto mira prima con... Ah, non hanno ancora corretto il bug del coso, eh. Del cieco. A volte si sentirà il colpo, altre volte no. Del cieco, del silenziatore, anzi. Bug del silenzi... Raga, ma quanti sono lì? In quanti sono, raga? Sono tipo in 28. Cioè, siamo in 7 e in 3 stanno lì. A me, tra l'altro, mi tocca andare in safe. Mi tocca andare. Io tutto contento, ero venuto qua sopra sperando di essere anche nelle prossime safe. Invece... Oddio mio, invece col cavolo. Ho preso pure danno, va bene. Ora i medaglioni li ha presi tutti uno. Alla grande. Mamma mia, raga, quanto si sta muovendo velocemente quello col medaglione. Cioè, già è arrivato al Monte Olimpo. Questo sta già sui tetti, raga. Il problema è che io gli devo andare proprio addosso. Ok, ho preso anche una taglia. Non mi ha dato, fortunatamente, quello del medaglione. E ce l'ho dietro. No, raga. Dietro che sta per diventare appiccicato. Ho sentito gli impulsi. Ok, e infatti, ragazzi, la... Quello che c'ha tutti i medaglioni sta tornando verso di qua. La safe, fortunatamente, è verso di me, quindi ci sta. Io sto sbloccando cose, boh, probabilmente delle ranked. Eh, sì, sì, è quello con le ali, eh. Oh, mio Dio, mi ha visto? No, non mi ha visto. Però è lui, è lui, è quello, il medaglione è lui. Ok. Eh, tipo, non mi ha più segnato nulla. Se n'è tipo... È tipo scomparso. Eh sì, raga, è che sta già laggiù, praticamente. Sta già laggiù. Mamma mia, è pazzesco. E te, 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 guarda. Un grillo. Un super grillo. Spacca pure gli alberi. Tranquillo. Ma gli altri dove stanno, esattamente? Vabbè, ne accamperà come me. Eh, raga, adesso m'ha visto, eh. Adesso m'ha visto. Comunque è già la seconda volta che lo cecchiniamo a questo qua, eh. Perché è quello che abbiamo ce... Ah, no, ma lui c'ha il DMR, però non c'ha il cecco. Ecco perché mi stava tenendo sotto mira anche dopo averlo ittato. Ok. Oddio, questa volta pensavo di averlo preso. Allora, oh, qua che ci sta? Bon, in attimo. Perché innanzitutto... Ah, però è una sola. Vabbè. Le banane, la pistola, tambu... Ah sì, forse è quasi quasi. Io quasi mi prendo la pistola a tamburo. Non so se ho fatto la scelta migliore in realtà. Ok. Ok. Mi vado a prendere... No! No! Un po' too much. Un po' too much, ragazzi. Sarebbe stato epico se mi fossi preso l'altezza lì. Mannaggia la miseria, vabbè. Questo mi sta proprio a pushare. Quello con i medaglioni, ragazzi, sta arrivando con una cattiveria disumana verso di me. Ma, regà, io non capisco gli altri dove siano. Non si sente più sparare nessuno. Non si è più visto nessuno. Dunque, ho fatto anche un bel giro lì. Mai togliere le mani dal gioco. Che liscio che ho fatto. Mamma mia, che liscio. Oh mio Dio, pure tu con i poteri di Zeus. E niente, fu lo rubato. Eh, eh! Eh, raga, non ho fatto in tempo a lanciare impulsi. Ma questo è arrivato in mezzo secondo perché c'ha i medaglioni. Mamma mia, ragazzi. Ali più medaglioni, c'è, proprio due secondi. Questo mi ha rubato la kill, è venuto in un momento di difficoltà e mi ha killato. Tutti qua questi stavano. Ma che stavano a fare questi tre qua, regà? Questi tre stavano tutti qui. Cioè, se io non sparavo quella cecchina da quello e non pushavo... Questi stavano ancora qui così. Incredibile. Dunque, all'ultima partita non ho fatto quattro kill come nella maggior parte delle altre. Però sono arrivato quarto. Vabbè, fa ride sta cosa. Più 41%, platino 1. Let's go. Ci siamo portati a casa il nuovo rank. In no build. Abbiamo sbloccato anche un po' di cose sia per la missione di Korra, a questo punto non lo so. Che è anche appunto per le missioni classificata. Vi ricordo di farmi sapere dove fare il prossimo episodio nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto e lasciate un bel mi piace. Codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Mi raccomando ragazzuoli, ve lo ripeto sempre. Ogni due settimane il codice scade e lo dovete reinserire. E il codice, non vi sbagliate a scriverlo, è GGYT tutto grande, tutto attaccato. Grazie a ve lo dico ora a chi lo farà. Per me è tutto. Ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli! Ciao ragazzuoli!